Con un applauso, poi Marika Ginetti, della categoria Vlevor, la prima era l'uomo, Della categoria Fashion, Anna Morelli, andiamo avanti, complimenti tutto il tema, corsetta, scarpe, perfetto, la fascia pure, devo dire, bella, bella, veramente un bel lavoro, Maria Stella Lucchesi, della categoria Beauty, e della categoria Vle, in ultimo c'è Maria Esposito, Maria Esposito, eccola qui, ci sono di qua, guarda la prima, hai visto che si è messa proprio in posizione, in bustacione, Poi andiamo avanti con la quarta, Federica, 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 Terza, e sui panze si fa sempre più eccitante, Anna Morelli, Morelli, Anna, vai, e adesso l'immagine assoluto, vincitrice di New Look 2015 è... Marika Ginetti, complimenti, complimenti, bravissime tutte, bevi e bravi, tutte quante veramente, complimenti. Grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti. Grazie a tutti.